Buongiorno a tutti, eccoci per questa seconda giornata di gara qui da questo splendido contesto qui in Ungheria, a Zeged, questo bacino di canottaggio che è veramente incantevole, un luogo fatto apposta per la pesca. La lenza emiliana, ieri abbiamo visto che non è andata poi benissimo, cioè è andata abbastanza bene a dire il vero, sono gli inglesi che sono andati troppo forte. Oggi vediamo come sono i picchetti della lenza, vediamo come sono i picchetti degli inglesi e speriamo in bene. La novità, la news, in realtà ieri si vociferava di tutto, di bacche di soia, si vociferava un po' di tutti i modi, oggi tenendoli molto sotto controllo al controllo, sott'occhio, abbiamo scoperto che cosa hanno usato gli inglesi, in realtà di mais non ne hanno usato tantissimo, hanno usato del tortù, che l'hanno dato probabilmente per attirare i pesci senza saziarli, quindi una tattica di gara assolutamente diversa, insolita rispetto agli altri, che ieri gli ha dato ragione. Grazie.